Ciao ragazzi, oggi allenamento pesi no pesi, 40 minuti, addome, circuitone e circuitino. Pesi, io è sette e mezzo, cominciamo? La domanda è, avrò ripreso la voce? Ma, vediamo. Allora, pesi no pesi. Sì, vorrei, prima di partire, leggervi subito la frasina. Frasina, la detta Kennedy. Dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nelle nostre vite. Signori, dopo la Rimini Wellness mi fermo e vi dico grazie, 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 grazie. Bene, ora che ci siamo fermati possiamo ripartire. Ripartiamo, pesi no pesi, siamo chiarichi? Dai, pesi no pesi, cominciamo, facciamo partire il timer. Allora, vado giù avanti, indietro e salgo, avanti, indietro e salgo, avanti, indietro, su, avanti, indietro, su. Ora, ruoto il busto da una parte e dall'altra. Così, destra e sinistra, destra e sinistra. Gambe aperte, vado a toccare un piede e poi l'altro. Forza. Up, 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 up. Muovo il bacino da una parte, muovo il bacino dall'altra. Di nuovo dal primo lato. E ora dall'altro. Benissimo, mani unite. Muovo leggermente i polsi. La salvo, la salvo, Vale. La salvo, ragazzi, la salvo. Allora, oggi, speriamo che la voce sia dalla mia parte, sta tornando. Il primo addome scolpito. 35. 30 lavoro. 5 pausa. Facciamo partire? Si lavora a blocchi di tre. Ogni blocco di tre si ripete due volte. Il primo è plank. 3, 2, 1. Via. Fermi in plank. 30 secondi. Fermi immobili in plank. Fermi lì. Ancora 20. Vi do 5 secondi di pausa tra un esercizio e l'altro. È la pausa più lunga che farete oggi. Nell'addome, eh? Solo nell'addome, però. 8. Poi 5 secondi di pausa. Appoggio le ginocchia e faccio twist plank. 2, 1. Appoggio le ginocchia. Mi riposo un attimo. 2, 1. Twist plank. Destra e sinistra. Oggi mi hanno detto che per recuperare la voce dovrei mangiare la pasta di acciughe. Allora, non ho pasta di acciughe in casa. Ok? Però, se qualcuno conosce questo metodo e l'ha già provato e sperimentato, fatemi sapere. 3, 2, 1. Pausa 5. Il terzo è T-rotation. Le zanzare. Sono tornate le zanzare. Via. T-rotation. Maledette zanzare. Dai. Destra e sinistra. Di qua e di là. Di qua e di là. Forza. 15 secondi. Ci siamo. 12. Up. 8. Continuo. 5. 2. 1. Pausa 5. Se vogliamo, invece che fare il plank classico, possiamo fare anche il dinamico. Via. Avanti, André. Up. Classico, dinamico. Scegliete voi. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Sulle punte. Ruoto di qua e ruoto di là. Cioè di qua e di là. Scusate, avanti e indietro. 8. Ci siamo, eh? Dopo twist plank. 3. 2. 1. Pausa 5. Appoggi le ginocchia. Si va. Twist plank. Destra e sinistra. Destra e sinistra. Forza. Destra e sinistra. Continuo. A ruotare un po' di qua e un po' di là. Hop. Hop. 10 secondi. Il terzo della serie. È T-Rotation. Ogni tanto ha degli abbassamenti. Sul tono. 2. 1. Appoggio le ginocchia. Ogni tanto sentite la voce che fa. Va giù. Non vi preoccupate. T-Rotation. Non vi preoccupate. Fino in fondo ci arrivo. Forza. 20 secondi. 15. Ci siamo. Ruoto. Ruoto. 10. E ruoto. 5. Ce l'hai eh. 3. 2. 1. Pausa 5. Crunch. Crunch classico. Piedi a terra. Via. Su e giù. Su e giù. Su e giù. Per bene. Manine. Dietro la testa. Salgo e scendo col bacino. Col busto. 15. Il prossimo sarà crunch. Gambe incrociate. Porto il piede destro sul ginocchio sinistro. Ok. Pausa 5. Piede destro sul ginocchio sinistro e col gomito sinistro vado verso il ginocchio. Via. Crunch da un lato quindi. Negli altri 30 faremo l'altro lato. Respira. Respira. Sapete mi sembra quasi strano essere qui da solo in questa stanza ad allenarmi. 2. 1. Pausa piede sinistro sul ginocchio destro. Il gomito destro va verso il sinistro. Va verso il ginocchio sinistro. Mi sembra strano perché fino a domenica ho fatto 4 giorni di allenamenti che quando alzavo gli occhi mi vedevo davanti a urlare, a sudare, a infamarci, a ridere. E adesso essere qua col telefono davanti di nuovo fa un po' effetto. 5. 2. 1. Pausa 5. Crunch classico di nuovo. Via. Crunch classico. Su e giù. Per bene. Forza. 15. Continuo. 10 secondi. Ci siamo. 8. L'addome lo sento. 5. 2. 1. Pausa. Piede sinistro sul ginocchio. Anzi. Piede destro sul ginocchio sinistro. Gomito sinistro verso il ginocchio destro. Forza. E lì. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Sempre così. Mi avvicino e mi allontano. Mi avvicino e mi allontano. 10 secondi. Ci siamo. Forza. 3. 2. 1. Pausa. Cambio. Piede sinistro sul ginocchio destro. Gomito destro verso il ginocchio sinistro. Vai. Forza che io sono già partito. Forza che io sono già partito. Il treno passa. E rimani a terra. Il treno passa e rimani a terra. 12. 8 secondi. Dai che ce l'hai. Hop. 3. 1. Pausa. Adesso. Reverse crunch. Via. Terza. Terzo blocco di esercizi per l'addome. Reverse crunch. Line leg raise. E il terzo non me lo ricordo. Ah sì. Tamburello. Reverse crunch nel primo. Line leg nel secondo. Tamburello al terzo. 5. 1. Appoggi i piedi. Line leg. I prossimi 30. 1. Via. Gambe avanti. Su. Avanti. Indietro. Su. Avanti. Indre. Su. Avanti. Indre. e su. Sempre così. È l'ultimo blocco addome. Forza. Poi l'abbiamo lavorato. 10 minuti e 30 secondi. Circa. 5. 1. Pausa. Tamburello. Ci siamo? Via. Forza al tamburello. E più le gambe sono giù. Più è faticoso. Se siamo stanchi. Le teniamo qua. Via di mezzo. Le teniamo qua. Abbomba. Le teniamo qua giù. 8 secondi. Forza. Ce l'hai. Tutta la schiena poggia a terra. 1. Pausa. Reverse. Crunch. Via. Reverse. Su e giù le gambe. Up. Dai che l'addome è quasi finito. Un po' come la mia voce. Cavoli, non è durata neanche 10 minuti. Non è durata neanche 10 minuti. Incredibile. Dai. 8. Lo tieni. 1. Poggi i piedi. Line leg. Il terzo blocco addome è un po' più bastardo. Via. Su le gambe. Su le gambe. Avanti. Su le gambe. Avanti. E su. Avanti. Su. Avanti. Up. Avanti. Up. Avanti. Dai. 8 secondi. Line leg. Poi abbiamo l'ultimo. Che è il tamburello. Pausa 5. Tamburello finale. Via. Dai. 30 secondi. Tutta la schiena a terra. Anche la parte lombare controlla la schiena. in modo tale che la parte lombare sia ben schiacciata a terra. E stai lì. 10 secondi. Forza. Respira. Brucia l'addome un po'. Brucia. 2. 1. Bang. Bene. Primo blocco. Termine. Secondo blocco. È il blocco più lungo. Partiamo subito. Ok? Partiamo subito. Come lo sentite? Ancora male? Strano perché ho il microfono quello buono oggi. Come va? Ancora male o no? Ok. E quando sono giù si vede. Così va meglio, direi. Ah, perfetto. Va bene. Se sono sdraiato non si sente. Allora devo stare su. Lo terrò qua. Bene. Ogni tot vengo a controllare. Se si sente male, riscrivetelo così capisco. Pesi no pesi. 40-20, 30-15, 20-10, poi 20-10, 30-15, 40-20. Si va. Pesi da sette e mezzo. Pesi da sette e mezzo. Squat. Traster mono destro. Jumping jack. Jumping jack. Traster mono sinistro. Squat più punte. Pronti a partire? Squat. Con i pesi sulle spalle. Uno. Via. Il primo è squat classico. Quindi su e giù. Le ginocchia sono leggermente larghe e le tengo lì. 28. Forza. Sono 40 secondi di lavoro. Poi abbiamo i 20 di pausa. Poi abbiamo i 30-15 in cui l'esercizio è un pochino più total body e un pochino più dinamico. 10. E poi due corpo libero, quindi no pesi. 5. 3. 1. Pausa 20. Traster mono destro. Vuol dire squat e spinta a destra. 10. Rifiata. Ci siamo eh. 3. 2. 1. Via. 30 secondi qua. Aumento un po' il gas. Un po' più veloce. Un po' più veloce. Forza. Traster mono destro. Solo 15. Ci siamo. Op. 10. Forza. 5. Ce l'hai. 2. 1. Facciamo l'ultimo. Pausa 15. 2. 2 volte il jumping jack. 20. 10. Ok? 2 volte il jumping jack. 20. 10. 3. 2. 1. Via. 20 secondi. Jumping jack. Up. Up. Forza. Jumping jack per bene. Così. Su e giù. Forza. Mi sballonzola tutto qua. 3. 2. 1. Pausa 10. Ripetiamo il jumping jack. 3. 2. 1. Via. Jumping jack. Forza. 20 secondi. Poi ho il thraster mono sinistro. Up. 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 2. 1. Pausa 10. Prendo il peso. Braccio sinistro. Thraster mono sinistro. 2. 1. Via. Squat. Spinta. Squat. Spinta. Scendi e sali. Scendi e sali. 15 secondi. Forza che lo tieni. Solo 10. 5. 3. 1. Pausa 15. 2 pesi sulle spalle. Squat. E punte dei piedi. E vado su. Ok? 2. 1. Via. Squat. Salgo. Punte. Squat. Salgo. Punte. Per bene. 30 secondi. Ritmo. Non esagerare. Questo è quello più muscolare dei tre. La cosa è, quello da 40, velocità normale. Ok? È più muscolare. Mi concentro bene sul movimento. Quello da 30, aumento un po' la velocità. Quello da 20, vado a bomba. 1. Pausa 30. Primo blocco fatto. Ok? Il primo blocco è andato. Primo blocco è andato. Adesso abbiamo. Adesso abbiamo. Tocco piede. Peso mano destra. Tocco il piede sinistro. Press up. Questo è il primo. 2. 2. 1. Via. Tocco il piede opposto. Spingo su. Tutto questo lato. Poi abbiamo. Snatch destro. Finto salto della corda. 25. Non esagerare. Continua. 18. Solo 15 secondi. Forza. 12. 10. Ce l'hai. Hop. 5. 2. Pausa 20. Riposi bene. Il braccio. Snatch con lo stesso braccio con cui abbiamo fatto incrocio. Tu press up. Ti mando anch'io il bacino. 3. 2. 1. Via di snatch. Scendo. E salgo. Forza. Qua sono solo 30 secondi. E dico solo per modo di dire. Per cui. Posso un po'. Aumentare la velocità. Ti ricordo il primo più lento che è anche più muscolare. Il secondo un po' più veloce. Il terzo quasi a cannone. 1. Pausa 15. Finto salto corda. Ok? Ci siamo? 5. 3. 2. 1. Finto salto corda. Hop. 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 Su e giù. Su e giù. Ogni tanto doppio giro. Ogni tanto doppio giro. 8. Ogni tanto doppio giro. Doppio giro. ce l'hai. 3. 2. 1. Pausa 10. Lo ripeti. Vai con sto salto corda. 3. 2. 1. Salto corda. Tac. Doppio giro. Doppio giro. Doppio giro. 8. Ci siamo? Doppio giro. Hop. 1. Pausa 10. Ripartiamo dallo snatch sinistro in questo caso. 2. 1. Via. Snatch sinistro. Su e giù per bene. Velocità. È quello da 30. per cui a cannone a cannone, scusate media avanzata. Media alta. Ok? Velocità medio alta. 10 secondi. Forza. Snatch sinistro. 5. 3. 1. Pausa 15. peso mano sinistra. Vado verso il piede destro. Salgo. Press up. 5. Si va. 2. 1. Tocco piede. Salgo. Spingo. Tocco piede. Salgo e spingo. Tocco piede. Salgo e spingo. sempre così. Forza. Tac. 25 secondi. Hop. 20. Ci siamo. Solo 15. 12. Dai, 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 dai. 8. 5. 2. 1. Pausa 30. Anche secondo blocco di lavoro è andato. Partiamo col terzo. Affondo stretto destro. Nei 40. Swing. Mono destro nei 30. Plank jack nei 20. Ok, bomberos. Ok, direi. Affondo stretto destro. Due pesi. Via. Destra avanti. Sinistra dietro. Su e giù. Due pesi. Controlla il ginocchio. Che non supera la punta del piede destro. Forza. Scendo, salgo e spingo. Scendo, salgo, spinto su. 15. 10 secondi. 5. 3. 1. Pausa 20. Swing. Mono destro. Ok, un peso. Mano destra. Sto sudando. Ho caldo. Swing. Mono destro. 3. 2. 1. Via. E salgo. Scendo giù bene. Schiena dritta. Swing. Mono destro. 20. Tac. 15 secondi. 12. Continua. 8. Ci siamo. Hop. 3. 1. Pausa 15. Plank jack. 20 secondi. Plank jack. Ci siamo. 2. 1. Apro e chiudo le gambe. Forza. Apro e chiudo. A cannone. Veloci. Rapidi. Rapidi. 8 secondi. Forza, 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 forza. 2. 1. Pausa 10. Lo ripeto di nuovo. 2. 2. 1. Plank jack. Apro e chiudo. Hop. 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 Forza, forza. 10 secondi. Tienilo. 5. 3. 2. 1. Pausa. Swing. Sinistro. Un peso. Mano sinistra. Swing. Via. Schiena dritta. Il peso. Mi va in mezzo alle gambe. Scendo e salgo. 20. Forza. 15. Continua. 12. 8 secondi. 5. 2. 1. Pausa 15. 2 pesi. Affondo stretto sinistro. Dai che poi. 3 blocchi su 5 sono fatti. Sinistro avanti. Ci siamo? Via. Scendo e salgo. E controlla il ginocchio che non supera la punta del piede. Forza, forza, forza. Comunque è due giorni che il tempo, meno sopra casa mia, prometta un certo momento di diluviare. Poi non diluvia. Poi c'è il sole. Poi ripromette di diluviare. E poi torna il sole. Si capisce più niente. 3. 1. Pausa 30. Quarto blocco. Tricipiti. Dietro la schiena. Un peso. E tengo lì. Un peso e tengo lì. 12. 8. Mi metto anche in ginocchio, dai. Questo meglio. 2. Gomiti stretti. Via. Su e giù. Su e giù. 40 secondi. Gomiti stretti. Scende il peso, sale. Scende il peso, sale. Per bene così. Forza. Questo è il primo. Per i 40. Nei 30 abbiamo barpi e snatch. Quindi diamo un po' di gas. Sabato vado a vedere anche la MotoGP al Mugello. Iniziamo a dare un po' di gas. Gas aperto. Gas aperto. 2. 1. Pausa 20. Sono ospite di Ducati. Chi c'è di voi a vedere la MotoGP nel weekend? Non vado domenica, vado solo sabato. Vado a vedere le prove. E che domenica non riesco. Poi mi dispiace non rimanere anche per vedere la gara, però avevo un impegno domenica. Pronti? Via. Barpi e snatch destro. Scendo. Salgo. Barpi e snatch. Scendo. Salgo. Snatch. Giù. Gambi indietro. Avanti. Snatch. 12 secondi. 8. Ci siamo. 5. Ce l'hai, eh? 1. Pausa. Saltelli laterali. Destra e sinistra. Ci siamo? Mani sui fianchi. 3. 2. 1. Via. Saltelliamo. Di qua e di là. e saltello. Si, si, si. E saltello. Si, si, si. 8. Forza, aumenta un po' il ritmo. Aumenta. Aumenta. 2. 1. Pausa 10. Lo ripeti. Pausa 10. Lo ripeti. 3, 2, 1. Via il saltello. Quanto è bello il saltello. E, e. Quanto è bello il saltello. E, e. 8 secondi. Forza. Destra e sinistra. Destra e sinistra. 3, 2, 1. Pausa 10. Burpee and snatch sinistro. Ci siamo, eh? 2. 1. Via. Burpee. Snatch sinistro. Giù il peso. Gambi indietro. Avanti. Snatch. Giù il peso. Indietro. Avanti. E snatch. Indietro. Avanti. Snatch. 12 secondi. 8 secondi. Dai che ci siamo. Solo cinque. Uno. Pausa 15. Bicipiti. Vicino al petto alternati. Prendo due pesi. Metto qua. Così. Ok? Due. Uno. Via. Da una parte. E dall'altra. Stiamo per finire il quarto blocco. Poi manca solo il quinto. Stiamo per finire il quarto blocco. Forza. Dopo ci attenderà anche un altro circuito, eh? Che è... Tirate la fiacca. Secondo voi durava solo addome e un circuitone? Ma va. Ma va. Il terzo circuito, quello finale. Cinque secondi. Due. Uno. Pausa 30. Ultimo. Ripartiamo dalle gambe. Sumo. Un peso. Sumo. Porto sul peso e spingo su. Roda plank. Skater jump. Skater jump. Push up and row. Sumo più punte. Ciao Luca Lolli. Via. Sumo. Porto sul peso. Luca Lolli, se mi stai ancora ascoltando, dopo andiamo a bere in centro. Forza. Sumo. Giù il peso, sul peso. Finita la diretta, ti chiamo. Giù il peso, sul peso. 22. Sumo. Sul peso. Sumo. Sul peso. Sumo. Sul peso. 10 secondi. 8. Dai che lo tieni. 5. 2. E porto su. Pausa 20. Roda plank. Metto due pesi sul tappetino. Roda sinistro, rodestro. Roda sinistro, rodestro. 8 e si va. 5. 2. 1. Via. Rodi qua. Rodi là. sinistra. Sinistra. Destra. Sinistra. E destra. Forza. Da una parte. Dall'altra. Da una parte. Dall'altra. 12 secondi. Ci siamo. 8. 5. 5. 2. 1. Pausa 15. In piedi. Skater jump. Tengo il microfono in mano. Vediamo se mi sentite lo stesso. Se no mi cade. 3. 3. 1. 1. Saltino. Skater. Saltino. E via. Sempre così. Di qua e di là. i 20 sono quelli per mandare sul cuore. Forza. Mandamelo su. Mandamelo su. 2. 1. Pausa 10. Lo ripeti. Siamo quasi in fondo al circuitone. 2 minuti. 2. 1. Via. Jump. Skater. Jump e skater. sempre così. Guarda in terra. In modo da appoggiare il piede nel posto giusto che se lo appoggi sul tappetino rischi di sfrombolare. 3. 2. 1. Pausa 10. Push up. Enrow. Push up row sinistro. Push up row destro. Via. Push up. Row sinistro. Push up. Row destro. Push up. Row. Push up. E row. Forza. Da una parte. E dall'altra. Da una parte. E dall'altra. Continuo. 3 secondi. pausa 15. Sumo. Più punte dei piedi quando sono giù. Due pesi sulle spalle. Ok? Due pesi sulle spalle. Vado giù in sumo. Punte. Salgo. Giù in sumo. Punte dei piedi. Salgo. Forza. È l'ultimo esercizio. Ok? Dopo abbiamo un altro circuito. Pesi no pesi. Più breve. Ok? E poi abbiamo finito. 15. Solo 10 secondi. Dai. 8. Ce l'hai. 5. 2. Bang. Il circuitone. Bang il circuitone. Terzo circuito. Lo andiamo a mettere subito. È un 30-10. Ok? Ho le mani sudate. Non me lo prende. Qua. 8 minuti. E si va. 8 minuti e si vola. Possiamo partire, direi. Ci stiamo? Ci siamo? Dai. Anche qua. Pesi no pesi. Sono 4 esercizi. E si ripete più volte. 30 lavoro, 10 pausa. Push up. Classico. Stand up destro. Con i pesi. Barpi senza salto. Senza salto. Come li fa Greta. Stand up sinistro. Con i pesi. Questi gli esercizi. 3 giri. Push up. 2. 1. Via. Se vuoi, ginocchia a terra. Scegli tu come farli. Io li faccio classici. piedi uniti. Piedi uniti. Mani leggermente più larghe rispetto al petto. E via. E su e giù. Braccia strette. 5. Spingo. 5. 5. 1. Pausa 10. Io faccio con due pesi. Stand up destro. 3. 2. 1. Via. Salgo e scendo. Sono 8 minuti di lavoro. Perché ogni circuito lo ripetiamo 3 volte. Cioè, ogni giro lo ripetiamo 3 volte. Cambiando però sempre gli esercizi. Quindi ogni volta. Vado sempre avanti. 10. Forza. 5. 2. 1. Pausa 10. Facciamo subito, visto che abbiamo già i pesi. Stand up sinistro. Ci siamo? 2. 1. Via. Stand up sinistro. Così già che li avevo, li facciamo subito. Ci togliamo gli stand up. E poi facciamo il barpi. Senza salto. Forza. 3. Di 4 esercizi. Del primo blocco. 5. 3. 1. Pausa 10. Barpi senza salto. Gambe avanti. Vado in piedi. Via. O lo faccio proprio così. Oppure faccio gambe avanti, in piedi, giù, gambe indietro, avanti, in piedi. Senza salto quando sono qua. Quindi controllo la velocità. 10. 5. 8. Ci siamo. 3. 1. Pausa 10. Primo giro. Terminato. Ripartiamo col secondo. Push up. Push up. Pronti? Via. Vai con i push up. Forza. Track. Track. Per bene. Come prima. Su e giù. 15. Ancora. 10 secondi. Continuo. 5. 2. 1. Pausa 10. Stand up destro. Destra su. 3. 2. 1. Via. Non sarà un hit ultra intenso, ma un 30-10 così che la pausa è così breve. Si sente, eh? Si sente. Forza. 12 secondi. Lo tengo. 8. Forza. 5. 3. 1. Pausa 10. Stand up. Ma a sinistra. Ancora così, se no. Ok. Via. Stand up a sinistra. Forza. Vai che è il terzo esercizio del secondo giro. Non manca tanto. Non manca tanto. Non mollare. Vediamo la luce in fondo al tunnel. 8. Dai, 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 dai. 5. 3. 1. Pausa 10. Senza i pesi. Barpi. Senza il salto quando salgo. Quindi un barpi via di mezzo. Più easy. Gambe avanti. Su. Giù. Indietro. Avanti. Su e giù. Cerco comunque di avere un buon ritmo. Ok? Di essere fluido. Nel movimento. 8. 5. 2. Pausa 10. Ultimo giro. Push up. Dai che è l'ultimo giro. Via. Push up. Salgo e scendo. Salgo e scendo. Stai lì. Stai lì. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. 10. Secondi secondi. 5. 3. 1. Pausa 10. Stand up. Destro. 3 esercizi. E abbiamo finito. Daglie. Daglie. Tutta. Via. Stand up. Destro. Non voglio mollare. Non posso mollare. Forza. 18. Ricordati. Se molli una volta. Poi. Diventa un'abitudine. Mai mollare bomber. Mai mollare. 5. 3. 1. Pausa 10. Stand up sinistro. Due esercizi alla fine. 2. 1. Salgo. Scendo. Salgo. E scendo. Per bene. Su e giù. 20 secondi. Respira. 15. Lo tieni. 10. Ci siamo. 5. 3. 1. Pausa. 10. L'ultimo. L'ultimo. Barpi senza salto. 2. 1. Via. Gambe avanti. Salgo. Scendo. Indietro. Avanti. Su. Indietro. Avanti. e su. 18 secondi. 15. Vedo il fondo. Vedo la fine. 8 secondi. 5. 5. 2. Bang. Frasina. Bellina, bellina, bellina. Non preoccuparti dei fallimenti, preoccupati piuttosto delle possibilità che perdi quando non ci provi nemmeno. calorie 300, stretching, prendo il piede e vado a tirare. Forza. Tira, tira il piede. Streccio bene la gamba. Vado un po' avanti col busto. Cambio piede. Sinistro. E tiro per bene quello. Ora, dalla settimana prossima torneremo. Scendo. Gambe un po' aperte. Braccio sinistro verso destra e mi allungo. Dalla settimana prossima torneremo a fare due dirette. Questa settimana ne ho fatto una sola, ma dovevo un po' riprendermi, ragazzi. Ero un po' distrutto dal weekend. Braccio destro verso sinistra e allungo. Entrambe le braccia su. Mi allungo. Anche andando sulle punte mi tiro per bene, proprio come se fossi a letto. Ok. E mi vado per bene ad allungare. Ok. Fermo. Chiudo gli occhi un secondo. Porto le mani lungo il corpo. E ruoto la testa. Scelgo un verso e la ruoto da quella parte. Intanto mi rilasso. Occhi chiusi. Ruoto. La testa dalla parte opposta. Fermo la testa. Tiro un po' da una parte, un po' dall'altra. E vi saluto. Che dire. Bello. Come sempre. Ci vediamo. Settimana prossima. E basta. Ciao. 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 Ciao.